E' dando che si riceve. L'importanza del volontariato è tutta qui e non c'è esperienza più bella da fare che scoprire la ricchezza dell'incontro con l'altro, sviluppando un progetto di aiuto e solidarietà. Il mio treno è partito a febbraio 2015 con un progetto promosso da Arci Servizio Civile all'interno di una ludoteca di Pisa. Dopo anni di studio e brevi esperienze lavorative in ambito educativo, ho avuto la possibilità di mettere in pratica quanto appreso dei miei anni universitari.